Ciao, sono Sistiana, qualcuno di voi vi conoscerà già, qualcuno probabilmente no, sono una cantautrice e una videoblogger. Qualche anno fa è iniziata la mia avventura su YouTube, sul web, infatti ho iniziato a caricare video musicali delle mie canzoni per far ascoltare la mia musica più utenti possibili. Proprio per questo oggi sono qui come madrina di questa speciale iniziativa che la Feltrinelli sta organizzando, infatti in occasione della Pesta della Musica la Feltrinelli lancerà questo music contest attraverso il quale artisti emergenti, cantautori, cantanti, band potranno avere la possibilità di essere selezionati e di suonare poi su uno dei prestigiosi palchi di uno dei punti vendita della Feltrinelli. La Pesta della Musica è una grande manifestazione popolare che si tiene tutti gli anni il 21 di giugno in occasione del sostizio d'estate. Partecipano tutti i tipi di musicisti, professionisti e nonne, ogni genere di musica, così come c'è ogni tipo di pubblico, di tutte le età, di tutte le provenienze, per cui è bellissima l'interazione che c'è tra i diversi tipi di musica, di musicisti e di pubblico. Partecipare è semplicissimo, basta lasciare un video di risposta sotto questo video, selezionate lascia un commento e cliccate per selezionare un video dal vostro computer. Può essere un video che avete registrato in camera, un video con tanto di montaggio e di regia, l'importante è che ci sia la vostra performance musicale di una cover o di un pezzo originale. Chi sarà il vincitore? Allora, tutti i video che verranno inviati entro il 31 luglio 2013 saranno in un'apposita sezione della pagina Facebook LaFeltrinelli.it e tutti gli utenti potranno votare con un i like il video che preferiscono. I 10 video con più i like andranno in finale e a settembre LaFeltrinelli selezionerà il vincitore che potrà suonare ad ottobre in uno dei punti vendita. Quindi, ricapitoliamo. Hai tempo fino al 31 luglio per rispondere a questo video con un tuo video live o un videoclip. Hai tempo fino al 31 agosto per votare gli artisti che ritieni migliori sulla pagina Facebook della Feltrinelli.it. La geria della Feltrinelli a settembre selezionerà tra i 10 finalisti il gruppo che si esibirà in un negozio LaFeltrinelli. Per dettagli e ulteriori informazioni consulta il regolamento sul sito LaFeltrinelli.it. Che dire? Mettetecela tutta e in bocca al lupo! Ciao!